La nuova statale del Santo in provincia di Padova continua ad essere un tragitto teatro di incidenti gravissimi. Quasi ogni settimana si registrano sinistri, molti dei quali dall'esito mortale. Lunedì pomeriggio, all'altezza del chilometro 9, vicino a Reschigliano, si sono scontrati tre mezzi, due auto e un mezzo pesante. L'impatto è stato frontale, pare che una delle auto abbia invaso la corsia opposta. Nell'urto il camion ha perso il gasolio del serbatoio. Sul posto hanno operato numerosi soccorritori. Un uomo che si trovava alla guida di una delle auto è stato trasportato all'ospedale in gravi condizioni. Per permettere le operazioni di soccorso e mettere la strada in sicurezza, il traffico è stato bloccato. Purtroppo quel tratto di tangenziale richiede la massima prudenza a chi si mette alla guida. Sono presenti numerosi autovelox che dovrebbero limitare la velocità, ma evidentemente quella strada per il tipo di conformazione nasconde insidie continue.